buongiorno da obiettivo news oggi 15 aprile san damiano de veuster oggi è la giornata nazionale del made in italy e non a caso è stata istituita proprio nell'anniversario della nascita di leonardo da vinci uomo geniale una data simbolica per celebrare l'ingegno pratico e l'estro artistico del nostro paese l'iniziativa mira sensibilizzare l'opinione pubblica sulla creatività e l'eccellenza italiana sul valore e la qualità delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani e in particolare intende riconoscere al made in italy il ruolo sociale il contributo allo sviluppo economico e culturale del paese anche in relazione al suo patrimonio identitario responsabilizzare l'opinione pubblica per promuovere la tutela del valore delle qualità peculiari delle opere e dei prodotti italiani e sensibilizzare i giovani a scegliere le professioni artigianali e creative legate alle eccellenze delle nostre manufatture oggi è anche la giornata nazionale degli spaghetti alla gennaio in occasione dell'anniversario della morte di totò e la giornata internazionale del grazie spiegel che corrisponde al nostro prosciutto al forno tra i nati in questo giorno abbiamo leonardo da vinci 1452 e claudia cardinale 1938 tra i scomparsi ricordiamo greta garbo 1990 totò 1967 e remondo vianello 2010